Ciao a tutti, io sono Liania e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, vi andrò a consigliare serie tv e film da vedere sotto le vacanze di Natale. Ovviamente io sto andando un po' in anticipo rispetto all'anno scorso sul tema natalizio perché ho tante idee dedicate al Natale, quindi meglio anticipare che arrivare in ritardo. Ma partiamo subito con le serie tv. Le serie tv che sto per nominare sono tutte serie tv che contengono una o più puntate dedicate al Natale. Allora, partiamo subito con Friends, classica serie tv, Friends ovviamente, da vedere assolutamente. Poi abbiamo Glee, un altro classico da vedere. Ovviamente io Glee lo considero come un pezzo di vita, senza Glee non sarei qua adesso in questo momento. Poi abbiamo Gilmore Girls, che ovviamente è un altro pezzo di vita che ho visto dopo aver visto anche una mamma per amica che ho amato entrambe, ovviamente, quindi senza mamma per amica non c'è Gilmore Girls. Quindi altro mezzo consiglio. Poi abbiamo New Girl, che sto guardando, quindi shh, non spoilerate niente. New Girl mi sta piacendo un sacco. Credo che sfrutterò queste vacanze natalizie per finire New Girl. e anche Modern Family, è un progress, un progress, perché la devo finire, l'ho appena iniziata. Così come Bones, sono tutte e tre serie tv che ho appena iniziato, che mi stanno piacendo e che comunque vi voglio consigliare anche se non ho finito, perché ovviamente se voi le iniziate e poi potete tranquillamente stare al mio passo e così possiamo magari parlarne magari su Instagram se volete nelle altre Instagram, così non si fanno molti spoiler. Vi lascio il mio profilo in descrizione. Poi abbiamo un altro pezzo di vita, che è How I Get Your Mother. Cioè, il nostro grande classico ovviamente, però non potevo non citarlo. Cioè, penso che abbiano tutti visto queste serie tv, però tu che ancora non l'hai vista, che aspetti? Che aspetti a guardarla? Ovviamente io mi rendo conto che sette serie tv da vedere sotto le vacanze di Natale è un po' eccessivo, però naturalmente c'è chi va a scuola ancora e ha tutte le vacanze libere per guardare queste serie tv. Cioè, voi che cosa dovete fare durante la danza di Natale? Magari siete impegnati, non lo so, il 24, il 25, magari massimo il 26. Gli altri giorni cosa dovete fare? Cosa dovete fare a guardare le serie tv che vi ho consigliato? Ovviamente un po' meno per gli universitari, like me, perché si sa che il dicembre, vabbè, dovrebbe essere il mese in cui si concludono le lezioni, come dovrebbe studiare ancora di più perché poi a gennaio iniziano le sessioni. E vabbè, quindi io non inizio niente a dicembre, finisco e basta, così almeno finisco le serie tv, inizio a studiare e chi si è visto si è visto. Ma queste serie tv si possono guardare tutti i mesi dell'anno. Ovviamente uno sfrutta le vacanze di Natale per guardarle, però diciamo che il tema principale di questo video ed è il motivo per cui sono andata un po' veloce sulle serie tv e sono i film, perché i film sono tutti a tema natalizio. Quindi se non li vedete a Natale, quando li dovreste vedere? Mai, perché uno non può vedere un film natalizio, che ne so, ad agosto. No, cioè, io gli sputo in un occhio, va bene. E quindi tutti i film che vi sto per citare vanno visti sotto Natale, mi raccomando raga. In particolare Last Christmas, che uscirà metà dicembre, credo il 18 o il 19 dicembre, non mi ricordo, vabbè scusate l'Alzheimer. E ha protagonista la mia amata Emilia Clarke, che interpreterà Kate, questa ragazza simpaticissima, che sta a cantare, non lo so, cioè io vi so un po' il 3R così, questa ragazza che sta a cantare, che non lo so perché, boh, vabbè, comunque, io l'andrò a vedere solo per Emilia Clarke, questo ve lo assicuro. Però sembra carino, quello che ho visto su internet sembra carinissimo e adoro. Poi, vabbè, Emilia Clarke che canta Last Christmas dei WAM, cioè, adoro. Poi abbiamo Klaus, i segreti del Natale, che anche questo sembra carino, ho visto solo una volta il trailer e sembra molto molto carino. Poi abbiamo Holiday in the Wild, che non lo so, cioè, ho visto solo i trailer, quindi, non lo so, mi sembra interessante dal titolo, quindi vedremo cosa succederà in questo film. Poi abbiamo Un Cavaliere per Natale, anche questo molto molto carino, il solito ovviamente solo il trailer. E Holiday Crash, cioè io credo che l'ultimo film sia l'inno della mia vita, perché ogni volta che incontro una Crash, cioè partono le fantasie, poi ovviamente io non li incontrerò mai più, però, vabbè, tipo le Crash sui mezzi, magari su un treno, sull'autobus, vabbè. Questo mi fa pensare alla mia povera vita. E poi tema Natalizio e ci sta tantissimo. Ebbene, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdermi su un altro video. Fatemi sapere nei commenti se avete visto l'SRTV che vi ho citato, e se avete qualche altro film che dovrà uscire, o che è già uscito, comunque almeno troppo dietro, da vedere sotto le vacanze di Natale. Quelli dell'anno scorso li ho già visti, vi dico ovviamente il video che ho fatto l'anno scorso, quelli che ho citato li li ho già visti, però se ne avete altri fatemi sapere, anche per quanto riguarda le serie TV. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!